Siamo in compagnia di Philippe Reitenberger della società agricola Reitenberger. Philippe, qual è la caratteristica dei vostri prodotti e quali sono i mercati verso cui vi vi annunciate virtualmente? Bene, buongiorno a tutti. Noi ci presentiamo qui ad Anuga per presentare la nostra nuova linea di trasformati a base di kiwi. Noi siamo produttori di kiwi d'agricoltura biologica in Veneto, esattamente a Giavra del Montello, provincia di Treviso e ovviamente abbiamo creato una seconda divisione di trasformati. Il nostro core business è appunto la produzione del fresco ma da qualche anno a questa parte ci siamo spinti e ci siamo concentrati sul settore del trasformato. Qui ad Anuga presentiamo il classico, ovvero la linea a base di kiwi, di smoothie, red and miello e oltre agli smoothie presentiamo la linea jam e la nuova linea di succhi, ovvero questi blend interessantissimi da fragranze diverse, ovvero andiamo dal kiwi banana, kiwi ginger, ovvero kiwi zenzero e kiwi e cocco. Prodotti molto innovativi, interessanti, con gusti diversi, però il fine comune è che sono appunto a base di kiwi. Qui cerchiamo ovviamente una clientela un po' originale, che cercheranno prodotti originali e ovviamente siamo qui per incontrare la nostra clientela europea e soprattutto nuovi buyer. quindi una fiera come Anuga per voi è strategica? È strategica perché comunque è sito in Germania, per cui è un po' il centro, una piattaforma non solo europea ma mondiale dell'agroalimentare, dove i player mondiali si incontrano e dove ovviamente ci sono delle grosse potenziali possibilità per matchare questi player e con i nostri prodotti ovviamente. Grazie a voi.